Estrazione odierna dei numeri dell'otto, del 10 e l'otto e del superenalotto Amici di Leggilo Org, bentornati alle seconde estrazioni settimanali dei numeri e dei simboli legati all'otto, al simbolotto, al superenalotto, al 10 e l'otto, simbolotto che per tutto il mese, sarà collegato alla ruota nazionale e che, come di consueto, verrà estratto subito dopo il completamento di tutte le ruote dell'otto Le estrazioni come di consueto, si terranno a partire dalle ore 20, noi di Leggilo Org, seguiremo in diretta per voi, tutte le varie estrazioni e vi comunicheremo, praticamente in tempo reale, i numeri vincenti di tutti i vari concorsi del giorno Come sempre, dopo l'estrazione dei numeri dell'otto e dei simboli vincenti del simbolotto, si procederà subito con l'estrazione dell'attesissima sestina vincente del superenalotto e a seguire avremo anche i numeri vincenti del 10 e l'otto Per chi gioca il superenalotto, il jackpot legato al 6 per questa estrazione, è di più 280 milioni di euro L'estrazione della combinazione vincente del 10 e l'otto invece, avverrà intorno alle 20,15 ed anch'essa verrà immediatamente pubblicata direttamente qui Per seguire le estrazioni live, basterà aggiornare la pagina ogni volta e man mano compariranno i numeri vincenti L'otto, i numeri delle estrazioni di martedì 11 ottobre 2022 Estrazione del superenalotto di oggi martedì 11 ottobre 2022 Estrazione del 10 e l'otto di oggi martedì 11 ottobre 2022 Combinazione vincente, estrazione del simbolotto di oggi, martedì 11 ottobre 2022 Combinazione vincente, ruota Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao